Sapete no? Sapete perché sono milanista? No, ve lo spiego, vi racconto come è andata, vi racconto come mai sono milanista, è una storia che è stata. Come sei milanista? La genesi. La genesi, sì, per tenere stare nel clima della sfiga. Vabbè, no, io da piccolo, c'è un mio nonno in casa che stava con noi, c'è un mio nonno che gli è caduto il portafoglio, io l'ho raccolto e ho trovato dentro due foto. Ho aperto, c'era una foto di Rivera e una di Padre Pio. Allora gli ho chiesto, nonno, chi sono? Uno è un uomo che fa miracoli, l'altro è un popolare fratepugliese. Allora, a quel punto lì sono diventato milanista, questo era per me.